Fondata in epoca romana come Pistoria o Pistorium, su un'area dove esistevano precedenti insediamenti etruschi e nelle zone più montane, i Liguri, divenne nel 200 a.C. un opidum di Roma per acquartierare le truppe romane in lotta contro i Liguri stanziati nelle aree appenniniche. La città è menzionata anche da Sallustio, che riporta la battaglia del 62 a.C. in cui perse la vita catilina. Pistoria divenne nel 400 importante sede vescovile e successivamente fu conquistata dai Goti, dai Bizantini, dai Longobardi e infine dai Franchi. Venne in parte distrutta al passaggio del potente esercito composto di tribù germaniche guidate dall'ostrogoto Radagaiso. Un paio di secoli più tardi, sotto la dominazione Longobarda, Pistoria fu elevata al rango di città e grazie alla sua posizione geografica conobbe un significativo sviluppo demografico ed economico che continuò anche intorno all'anno 1000, quando passò nell'orbita degli imperatori tedeschi. Divenne libero comune nel 1105 e nel 1117 fu approvato lo statuto dei consoli del comune di Pistoria. La più antica raccolta scritta di leggi, regolamenti e consuetudini dell'età comunale, a noi pervenuta. Importante centro medievale di Bellino, sostenitore del Sacro Romano Impero, Pistoria fu a lungo alleata di Pisa e di Siena. La posizione geografica nel crocevia di grandi direttrici commerciali alimentò la vocazione commerciale della città e a partire dal 1100 emerse un ceto mercantile molto attivo. Le famiglie pistoiesi più importanti di mercanti banchieri furono gli ammannati e i panciatichi attivi in Francia, i cancellieri, i carenti, i dondori, i partini, i reali, i simiglianti e i visconti. Questo è considerato il periodo di maggiore splendore di Pistoia. Tuttavia, dopo un assedio di 11 mesi, l'11 aprile 1306, Pistoia si arrese ai nemici di sempre, i fiorentini e i lucchesi, perdendo così la sua autonomia. Un anonimo pistoiese, nelle sue istorie pistolesi, ovvero delle cose avvenute in Toscana dal 1300 al 1347, così scrive Poscia fecero disfare le mura e riempire i fossi, disfacendo tutte le fortezze e palaggi dei chibellini e dei bianchi di Pistoia. I numerosi tentativi di ribellione dei pistoiesi furono, di volta in volta, soffocati nel sangue. Poi, con la perdita dell'autonomia e il controllo dei fiorentini che dominavano la vita pubblica di Pistoia, con uomini di fiducia, nel 1300 iniziò una crisi sociale ed economica, inarrestabile, acuita dalle lotte interne tra guelfi bianchi e neri, che, secondo lo storico Giovanni Villani, ebbero inizio proprio Pistoia, per poi propagarsi a Firenze e nel resto della Toscana. Con la nascita del Gran Ducato di Toscana, sotto la signoria Medicia, ci fu un deciso cambio di tendenza e si aprì una grande stagione di rinnovamento e di riqualificazione del tessuto urbano. Pistoia tornò così un importante nodo politico e culturale, con la nascita di circoli o accademia. La più importante fu l'Accademia dei Risvegliati, fondata da Monsignor Felice Cancellieri e dal nobile Federico Manni, dove si recitavano poemi, poesie e prose, e si faceva musica. Le riunioni avvenivano per lo più nei salotti delle case nobiliari ed erano al loro esclusivo uso e divertimento. Alla fine del 1600 fu costruito un teatro dove ebbe sede l'Accademia, sino alla sua estinzione avvenuta nel secolo scorso. Fecero parte dell'Accademia numerosi esponenti della nobiltà locale, tra cui Felice Cancellieri, Roberto Lospigliosi, Vincenzo Manni, Annibole Bracciolini, Domenico Manni, Pietro Banchieri e tanti altri. Con l'arrivo di Lorena, che furono artefici importanti di forme, Pistoia, come tutta la Toscana, conobbe a partire dalla seconda metà del 1700 un significativo risveglio sociale, ma anche culturale ed economico. Nel 1800 la realizzazione delle linee ferroviarie favorì lo sviluppo industriale della città. Nel 1861 Pistoia, come il resto della Toscana, venne annessa al Regno d'Italia e nel 1927 divenne provincia e sede di prefettura. È tra le città decorate al valor militare per la guerra di liberazione, per i suoi sacrifici e i sacrifici delle sue popolazioni naturalmente e per la sua attività nella lotta partigiana durante la seconda guerra mondiale.